Allora, ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. È quasi l'una di notte e sto per fare un video un po' complicato, nel senso che ho elaborato alcune cose per farci stare tutto, perché voglio farvi vedere anche una breve live reaction, la reaction ai tre gol segnati dalla Juventus, invece che portarvi la live reaction completa preferisco portare un altro contenuto, siccome è più interessante, con all'interno anche la live reaction che vi lascio alla fine di questo video. È una cosa che non faccio spesso, ma che mi piace, perché mi sono ritrovato una domanda interessante nei commenti che ora vi voglio mostrare a schermo e voglio cercare di dare una risposta, perché rispondere nei commenti è una cosa, ma anche cercare di motivare la risposta a una domanda così interessante, siccome è molto utile. Eccola qua. Manuel chiede La Juve fa una partita con più aggressività del solito e Vlaovic fa veramente una bella partita. Sarà un caso? Per me no. E io gli rispondo, penso di no. E quindi da qui nasce tutta la discussione e ho cercato di darmi una risposta, perché il penso di no dovrà essere motivato da qualcosa. E quindi mettetevi comodi perché ho diverse slide che vi mostreranno il perché, secondo me, non è un caso che la Juventus, che fa una partita di questo tipo, va a agevolare anche, ovviamente, le condizioni e le caratteristiche di Dujan Vlaovic. La prima cosa che mi viene a mente di dirvi è che la Juventus ha fatto una partita con 14 occasioni da gol. Lo potete vedere nella tabella qui sotto di me. Di queste 14 occasioni, tre volte la Juventus è andata in gol, quindi ha segnato tre reti, ha beccato due pali e quasi tutte queste occasioni sono avvenute all'interno dell'area di rigore. Ora voglio provare a andarvi a far vedere il grafico dei tiri in porta. Lo troviamo qui in fondo. Eccoci qua. La Juventus ha concluso praticamente sempre dentro l'area di rigore. Come potete vedere dai pallini ci sono veramente pochi tiri da fuori e comunque quelli più pericolosi, quelli che sono arrivati anche in porta, sono arrivati da dentro l'area di rigore. Quindi già questa può essere una motivazione. La Juventus è riuscita a creare una partita nella quale è andata a concludere più volte e quindi per forza di cose anche l'attaccante si è sentito più partecipe. Ma a me è sembrato rivedere un Vlaovic cercato in maniera differente rispetto al solito, sempre più attaccando alla profondità e sempre meno spalla alla porta. Il che non significa che non sia stato servito anche spalla alla porta, ma rispetto al solito secondo me è stato qualcosa di differente. E credo che ci sia anche una motivazione dietro a questa cosa. Vi dicevo che l'altro giorno non mi era piaciuta la partita contro la Lazio e voglio partire da un'altra statistica che secondo me è molto interessante. Questo è il baricentro della Juventus. Quando aveva la palla la Juventus sopra e quando aveva la palla la Lazio sotto. La Juventus quando aveva la palla ha avuto un baricentro di 53.45 metri e quando aveva la palla la Lazio un baricentro di 40.52 metri. Lo vedete nella prima colonna, la Juventus è infatti la squadra che gioca in casa. E con la Salernitana cos'è cambiato? Quindi 54 metri circa quando aveva la palla e 41 metri circa quando non ce l'avevamo. Con la Salernitana è cambiato qualcosa perché la Juventus che questa volta non gioca in casa ma gioca in trasferta ha avuto un baricentro quando aveva la palla di quasi 59 metri. 59 metri contro i 53.4 di prima, 54 di prima quindi 5 metri in più e quando non aveva la palla un baricentro di 45 metri contro i 40.52 in precedenza. Quindi la Juventus è stata più alta sia quando attaccava e sia quando difendeva. E questo per forza di cose ha fatto la differenza in senso positivo per quanto riguarda Dujan Vlaovic. Ha avuto più possibilità, come dicevamo prima, di andare ad attaccare la porta. Ha avuto più possibilità di andare a rendersi decisivo e fare giocate importanti perché è vero che Vlaovic fa un gol su rigore. Il secondo gol nasce da un altro errore di Nicolussi Caviglia ma ci sono state anche altre occasioni nel quale Vlaovic è risultato decisivo. Quella spalla alla porta in cui prende velocità e poi va a servire Federico Chiesa nel secondo tempo. Quella nel primo tempo dove si autolancia di tacco e va a concludere con la palla che si spegne sul fondo. O anche quando ha attaccato alla profondità di Maria l'ha cercato sulla corsa e ha tirato di prima intenzione con quella palla che è scesa ma purtroppo non così tanto col pallone che si infrange sopra la traversa. Quindi Vlaovic ha avuto tante occasioni dentro la partita e a tratti ha dimostrato pure di saper fare reparto da solo. E credo che queste siano motivazioni vere e proprie che hanno spinto a vedere un Vlaovic differente rispetto a quello che abbiamo visto spento con la lastra. Poi andremo ad analizzare ovviamente nel pomeriggio con le pagelle tutti i valori individuali dei giocatori. Ma un'altra motivazione credo che sia anche il fatto che Vlaovic è riuscito a tirare sei volte in totale. Parlavamo prima di 14 occasioni vere e proprie della Juventus, sei tiri all'interno di quelle 14 occasioni nascono dal piede di Dujan Vlaovic. Ed è interessante, insomma è molto interessante dare un'occhiata anche all'hit map di Dujan Vlaovic all'interno di questa partita. E per farlo ancora una volta credo che sia giusto chiamare in causa Juventus Lazio che è stata una vittoria, anche quella meritata per quanto mi riguarda, ma una vittoria che mi aveva convinto meno e siccome si passa anche tanto proprio da questo tipo di atteggiamento per quanto riguarda la convinzione. Questa con l'alassio, vi faccio vedere l'hit map di Vlaovic all'interno della partita, questi i primi 15 minuti, questi i secondi 15, gli ultimi 15 del primo tempo, dal 45esimo al 60esimo e dal 60esimo al 75esimo. Come potete vedere, bene o male, l'hit map di Vlaovic è sempre la stessa, con un grosso cratere a centrocampo, quindi l'attaccante che è stato abbastanza basso, con qualche sporadica apparizione davanti, ma senza mai pungere così tanto. Invece con la Salernitana abbiamo un Vlaovic differente, perché nei primi 15 minuti è già molto presente in attacco e avevamo visto che comunque i suoi compagni lo cercavano con insistenza. Vlaovic negli altri minuti si focalizza soltanto al centro dell'area di rigore e poi torna a giocare tutto campista, ma con specializzazione proprio dentro l'area, diversamente da quanto avevamo visto proprio con l'alassio. Poi Vlaovic si spegne sì un pochino nei successivi 15 minuti, quindi all'inizio del secondo tempo, dove trova anche il gol, ma rimane comunque la sua presenza dentro l'area e poi pian pianis sempre più a calare la sua presenza proprio all'interno dell'area di rigore, ma abbiamo visto un Vlaovic sicuramente più dentro la partita che va a toccare anche zone di campo che con l'alassio non era stato in grado di toccare. Quindi credo che queste siano un po' le motivazioni del perché Vlaovic è sembrato differente rispetto allo solito. Vlaovic è sembrato un attaccante più in partita e quindi sì, secondo me il fatto che la Juventus abbia fatto una partita differente proprio per caratteristiche rispetto a quelle precedenti o all'ultima che abbiamo visto con l'alassio, ha fatto sì che Vlaovic potesse apparire come un giocatore più in forma, con magari anche più cartucce da sparare, più gettoni da giocarsi. Poi indubbiamente per quanto mi riguarda Vlaovic ha avuto uno stato di forma maggiore e ha avuto anche probabilmente un impatto più violento sulla partita proprio perché l'ha voluto lui, non solo per la squadra, la squadra sicuramente ha aiutato andando a massimizzare le sue caratteristiche che è sempre una cosa che abbiamo visto poco nel corso di queste settimane, di questi mesi. Purtroppo anche quando è arrivato Vlaovic abbiamo detto in più di un'occasione eh sì però bisognerebbe andare a servire più. Ecco, ieri sera l'ho visto, poi anche qua secondo me molta differenza la fa anche il fatto che la Salernitana abbia fatto una partita di un certo tipo rispetto alla Laz. La Salernitana sicuramente non è la squadra con la quale la Juventus deve confrontarsi e non può essere nemmeno la squadra campione per valutare una stagione, una prestazione di livello alla parte di Luciano Vlaovic. Questo sicuramente deve essere un punto di ripartenza, un punto di ripartenza dove però si è notato qualcosa di differente sia lato Juve sia lato Vlaovic, un punto di ripartenza dove appunto farci una domanda, ma la rimostrano ancora una volta a schermo intelligente, secondo me, che ha delle motivazioni vere e proprie, proprio perché la Juve ha cercato una gara andando sempre più in avanti e sempre meno indietro. E ovviamente se fai una gara di questo tipo e con l'attaccante che guarda sempre più la porta, attacca sempre più la profondità, invece che guardare sempre spalla alla porta sempre lavorare palloni con magari tanti retropassaggi e la palla che difficilmente arriva in aria beh, è ovvio che più palle hai la possibilità di giocare all'interno dell'area di rigore, più gol può fare l'attaccante quindi credo che non sia stato un caso, non è una coincidenza, la domanda sembra banale l'abbiamo visto in più di un'occasione che la Juventus tante volte fa fatica a fare quello che invece dovrebbe fare una squadra come la Juventus e fa fatica anche a massimizzare quelle che sono le caratteristiche di Vlaovic detto questo ragazzi, io vi auguro ovviamente una buona mattinata cerco di andare a nanna pure io, però prima di tutto volevo farvi vedere anche appunto la mia reazione la mia live reaction ai tre gol della Juventus e quindi cambio immediatamente schermata uh, rigore eh? è rigore eh? è calcio di rigore yes Duzer Vlaovic palo gol, bel rigore sì eh ho c'ho tra l'altro sì, in effetti ci arriva sul palo eh eh, ha tirato molto bene no oh Kostic, ma che gol abbiamo fatto che confusione che confusione incredibile che caos assurdo che gol fortuito questo qua proprio c'è andata divina ma che gol è? è l'azione più casuale di sempre Vlaovic tira malissimo e viene fuori l'assist più bello del mondo per Kostic Vlaovic calcia di destro quasi come calcio io di sinistro e meno male che Kostic la tocca così 2-0 yes sì Faggio beh vabbè allora bravo Faggio e allora bravo Duzian allora bravo Faggio e allora bravo Duzian bravi ragazzi palla con i giri contatti sulla profondità attaccata da Vlaovic 3-0 per la Juventus 3-0 per la Juventus finisce qua un buon 3-0 per la Juventus ragazzi facciamoci un applauso almeno stasera che vinciamo una partita tranquilla e niente io vi do appuntamento con le pagelle tra qualche ora e finalmente abbiamo ritrovato un pochino il sorriso purtroppo c'era mancato e avevamo bisogno secondo me di una serata del genere dove si è vinto si è fatto quello che deve fare la Juventus contro la Salernitana ci ha portato a casa la vittoria ci sono stati tanti gol e finalmente anche una prestazione che sembra dire vedi facendo così insistendo così avremmo potuto avere sicuramente un'altra stagione avremmo potuto avere anche un finale di stagione precedente l'anno scorso ma possiamo toglierci delle soddisfazioni insistendo su questa falsa riga lo faremo soltanto il tempo saprà dirci se questa cosa verrà oppure no a dopo ragazzi di stagione di stagione